Andiamo, eccoci, se si ferma qua, poi dopo dopo passa a salutare loro, se si ferma qui per parlare. Una parola che, su questo che diceva Paolo Marri, si ripete tanto è insicurezza, ma la vera parola è guerra. Da tempo, diciamone, il mondo è in guerra a pezzi. Questa è guerra. C'era quella del 14, con i suoi metodi, poi quella del 39-45, l'altra grande guerra nel mondo, e adesso è questa. Non è tanto organica, forse. Organizzata sì, ma organica, dico. Ma è guerra. Quando io parlo di guerra, parlo di guerra sul serio, non di guerra di religione. No, c'è guerra di interessi, c'è guerra per i soldi, c'è guerra per le risorse della natura, c'è guerra per il dominio dei popoli. Questa è la guerra. Qualcuno può pensare, sta parlando di guerra di religione. No. Tutte le religioni vogliamo la pace. La guerra la vogliono gli altri. Capito? Si non rappresenta le donne in politica.